Muoversi. Infomobilità in Campania. Sul raccordo di Benevento dal 14 al 21 dicembre nella fascia oraria 7 e 17, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori segnaliamo careggiata ridotta tra lo svincolo Benevento della 16 Napolicanosa e l'uscita San Giorgio del Sagno in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 7 Appia dal 15 al 22 dicembre nella fascia oraria 6 e 17, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo al senso unico alternato tra le località Montemiletto e Lioni. Sulla strada statale 166 degli Alburni fino al 29 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi per lavori attivo al senso unico alternato su tutto l'asse in tratti saltuari. Sulla strada statale 700 della Regia di Caserta, fino a venerdì 22 dicembre, nella fascia oraria 7 e 17, da lunedì al sabato, per lavori attivo al senso unico alternato su tutto l'asse in tratti saltuari. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Bilcuore.